Salve onorevoli riecoci qui in un nuovissimo episodio siamo su fallout 2 come sempre io sono l'arx di kormaris e siamo sempre molto più vicini alla fine Bene a parte questo volevo far vedere questa piccola cosa divertente diciamo un attimo al nostro amichetto di aspettare riprendiamo con noi il nostro cane ma questo giusto per perché c'è questa strana roba che noi gli possiamo chiedere devo parlarti a proposito del tuo equipaggiamento ho il pelo padrone non indosso altro per dire che non ha armatura allora gli chiediamoli quali tipi di armi puoi usare un cane veramente glielo stiamo chiedendo Denti padrone quelle brillanti cose bianche installate nella mia bocca voglio che tu rimanga qui finché non sarò tornato va bene allora il nostro piccolo cane rimarrà a guardia dell'angolo per non so il resto della sua vita probabilmente Vorrei cambiare la distanza no abbiamo mandato indietro goris ok vieni con me perfetto e nel mentre posso dire che è giusto per organizzarmi un minimo ho venduto un po' di roba in eccesso arrivando al bellezza di 72000 ora così giusto per perdere tempo E ho trovato l'arma di piccole dimensioni più forte di tutto il gioco perché due sono le armi c'è la pistola gas e il fucile gas In realtà credo sia gas dal dallo scienziato gas dei campi elettromagnetici ad ogni modo perdonatemi la mia pronuncia in caso ha fatto schifo E quest'arma si può solo comprarla qui dal venditore la si può trovare solo qui casualmente il signore ha voluto che arrivando qui l'abbiamo subito trovata E l'ho comprata al volo e in seguito sto dicendo ce ne sono due che è la pistola gas e il fucile gas con la differenza che il fucile appunto ha un ratio di fuoco chiaramente molto più basso Quindi mangia più punti azione in confronto a una pistola però è anche vero che fa più danni della pistola gas che ora non vi posso far vedere perché l'ho venduta purtroppo Quindi più che altro è una vostra scelta diciamo che a parità di danno e più che altro di punti azioni sono uguali Fucile gas fa meno colpi ma i colpi che fa fanno più danno la pistola gas fa più colpi però fa leggermente meno danno cioè fa leggermente fa meno danno del fucile Il problema del fucile gas è che lui usa le munizioni 2 mm EC che è un grosso e grande problema perché sono molto difficili da trovare infatti già vi dico per trovarne 300 di queste Vi dico semplicemente che ho comprato il fucile da lui e vi ricordo che lui può vendere anche le pistole gas e vi ricordo che potete anche al commerciante quando le armi sono dal commerciante Premere destro e vi fa uscire la tendina qui per togliere le munizioni che non è affatto male come roba e ne ho comprate principalmente 200 all'RNC Al bazar appena entrata è la tenda dove c'è scritto GANS vicino al vendispiedini al padre figlio di Bob e al 300 li ho prese da Mark il ragazzo della petroliera che stava vicino al bar Lui ha sia un fucile gas che ho scoperto avere 100 proiettili quindi glielo ho prese abbiamo fatto un bel 300 Ora questo perché perché per quanto possa sembrare un'arma energia soprattutto negli altri fallout l'hanno resa quasi prettamente un'arma energia Usa e scala su armi piccole armi si chiama così Ora comincio ad avere tipo l'app su suoti mentali armi leggere scusate piccole armi detto così Fucile gas piccolissimo lo metti nel portachiavi comunque su armi leggere quindi lo possiamo dare con estrema tranquillità Al nostro caro amico Gas Infatti se noi comunque glielo scambiamo tra l'altro ho fatto una cazzata posso leggerlo così? No Magnifico Vabbè lui lo prenderà direttamente più che altro devo leggere la descrizione del fucile gas L'M72 è di progettazione tetesca utilizzato utilizza un campo elettromagnetico per questo gas come propellente per sparare colpi ed incredibile velocità e perforare ogni ostacolo La sua gittata, l'accuratezza, il potere piccolo murloc e il potere d'arresto sono ineguagliati Infatti il fucile gas ha una perforazione veramente assurda ma veramente assurda non sto scherzando Quindi facciamo un bello scambio e un controllo combattimento Gli andiamo a usare l'arma migliore E come sentite c'è questo bel suono propellente possiamo dire così E mi prendi? Vabbè il Pancor te lo lascio Perché comunque è vero che abbiamo 300 munizioni Però comunque non è il massimo Non è il massimo Però diciamo per quello che ci rimane da giocare dovrebbe bastare In seguito andiamo dal nostro caro Sulik E immediatamente gli diamo un bel super martello da guerra Così anche lui si potrà finalmente ritornare alle origini impugnando un bel martellazzo come ha sempre voluto fare Perché il Ripper non l'ha mai ben accettato Come vedete ogni volta che glielo davamo lo toglieva lo doveva equipaggiare al momento Però ora ha un bel martello da guerra In seguito rispondendo un attimino a dei commenti In particolare a quello di Dovakin Slayer dello scorso episodio Che ci ha detto di andare a potenziare l'armatura Già vi posso dire con assoluta tranquillità Che le armature atomiche avanzate Quindi quelle dell'enclave Quella che abbiamo ora noi per intenderci Non si può potenziare Ho già provato E non ti lo faccio vedere ragazzi Non vi fidate Fidatevi sulla parola e basta Per il semplice motivo che in Fallout 2 ci sono solo due armature Che è quella che abbiamo visto in precedenza Che abbiamo equipaggiato E questa ne può potenziare solo le T-52 Quindi quella bianca diciamo Questa qui nera ci dice proprio Se noi andiamo lì dice Sì ok ma mi devi dare un'armatura atomica Non vedo che tu abbia un'armatura atomica Come cosa un po' comica Avrei preferito di più una linea di dialogo Dove mi diceva guarda Quella armatura non la possiamo potenziare Che sarebbe stato più semplice Quindi no non si può proprio potenziare Anzi sicuramente mi sta venendo un po' il rimorso Ve lo faccio vedere direttamente Anzi no Anzi no Fanculo Lo facciamo tutto un giro direttamente ora E portate a termine la missione Ho qui gli schemi di Vertibert Con me Non ancora ci sto lavorando Ok Diamo un'occhiata Vabbè non insieme di schemi non ci dice nulla di che Ho qui gli schemi di Vertibert Magnifico lavoro E guadagniamo 20.000 punti esperienza Mi sa che qui appena consegniamo tutte le missioni Saliamo direttamente di nuovo di un altro livello Dammi gli schemi tecnici E te ne faccio una copia Come promesso Ti darò pieno accesso alle nostre attrezzature Grazie Non c'è di che Dicevo che mi sa che saliamo di livello Perché noi comunque dobbiamo portarlo pure agli sci Fate conto che noi abbiamo 34 E serve 51 No vabbè siamo già saliti di livello Perdonate mi sembrava stare Dicevo che cazzo Siamo già saliti di livello Perché qui dava di meno di punti Tra l'altro a che cazzo di livello siamo arrivati Mi scusi 26 26 Vabbè ma credo che 26 va più che bene come livello Arrivare già a 30 Significa che non hai finito il gioco Vuol dire che proprio stai cazzeggiando Per le lande contaminate Diciamoci la verità Non che sia sbagliato Ben inteso eh Ora noi ci dobbiamo prendere tutti questi Moduli di memoria Come vedete abbiamo il verde Il rosso Il giallo E il blu Che il blu in realtà era qua Vabbè avete capito insomma Questo perché Per un semplice Pratico ed effettivo Motivo Infatti Avere Tutte queste belle e simpatici Moduli di memoria Ci serviranno Proprio ed assolutamente Qui dentro Ed è strano perché Voi trovate appunto Questi moduli Un po' nelle location principali Non ve li sto a rielencare tutto Però sono le location principali Che tutti prima o poi ci passano E se date una degna esplorazione Non sono nemmeno così impossibili da trovare Non stiamo parlando di nulla Di particolarmente segreto E non pensate che I bunker della confraternita Nelle altre zone Siano così Nella maggior parte dei casi È semplicemente una stanza Con la scrivania Questo è l'unico Che ha anche La possibilità di scendere Al piano inferiore Boom Che bello Che bello Che bello Sembra quasi di ritornare In Fallout 1 Dove la confraternita Era una potenza Sì magari Ragazzi dovete capire C'è chi ha Le dead issues Le mom issues Io ho Le brother of steel Issues Ecco Mi è sempre piaciuta La confraternita d'acciaio Roba mia Magari perché È stato anche comico Perché poi il mio primo fallout In realtà è stato Fallout New Vegas Quindi È Molto strano Come roba Perché in Fallout New Vegas Chi cazzo se le incula La confraternita d'acciaio Al contrario In Fallout 3 2 1 Cioè È sempre tipo Un Fallout sì Un Fallout no Fateci caso Fallout 1 Importantissima La confraternita Fallout 2 Chi cazzo se le incula La confraternita Questo è il primo bunker Che vediamo Fallout 3 Importantissima Fallout New Vegas Chi se le incula Fallout 4 Importantissima Praticamente Capitolo sì Capitolo no Quindi mi dispiace Per chi ha veramente Il feticismo Per la confraternita Oscura Sì D'acciaio Prossimo Fallout 5 Non ci sarà Farà cagare Almeno è già tanto Se troveremo un bunker Come al solito Questa è la norma Ok vediamo qui E troviamo così A caso Una bella Power armor Che fai Pene privi Certo che no Certo che no E queste Praticamente sono Le uniche Power armor Che si possono trovare E così Fucili a impulsi E pistole a impulsi Ma così Me le dai Così Porco Giuda Queste sono tutte robe Che poi mi devo andare a vedere Se scopro che io ho fatto Tutti sti cazzo di giri Per ottenere i fucili No vabbè Che questi qui Sono impulsi Quindi chiaramente Spero Gireranno Su armi energia Perché se mi sono fatto Tutti sti cazzo di giri Per dare al nostro Caro amico Stronzone Cas Un fucile gas Che sembra un po' Una strana Una roba Dirlo così tutto insieme E poi scopro che qui Bastava scendere E trovavi l'arma migliore Mi fa un pochino Incazzare In ogni modo Qui abbiamo un bel Computer Un grosso computer Un terminale Console del computer Andiamo direttamente Alla console del computer Benvenuto Io sono Ace Il miglior succo Novo giallace Fa cagare Non so la gente Come cazzo Fa berserla Sa di veramente Di schifo Non sa Né di acqua Né di pesce Vabbè Non sa Né di carne Né di pesce Veramente Il computer medico Ho bisogno di assistenza medica? Sì Prego Specificare il tipo di assistenza Sono ferito D'accordo Prego Mentre apro la vasca Di sospensione Si stenda nella vasca E si rilassa E si rilassa Il processo curativo Richiede 5 minuti D'accordo Bellissimo che praticamente Ci hanno messo Una vasca di sospensione Altro che Questa è veramente Altissima tecnologia Perché In tutti gli altri fallout Sta roba non si vedrà più Negli altri fallout Esisterà semplicemente Vai dal medico Che ti cure E ti rattoppa Qui cazzo Le vasche di sospensione Con acqua curativa Il trattamento richiesto È stato completato Adesso può uscire Dalla vasca di sospensione Abbiamo A rianalizzare Il computer Avrei delle domande Puoi darmi delle risposte Prego Tu sei il computer Giusto? Io sono Acio Un'entità artificiale Dotata di consapevolezza Sono qualcosa Di più di una macchina Ma non abbastanza sofisticata Da essere una vera Intelligenza artificiale È possibile creare Una IA reale Oppure La tua Le tue caratteristiche Sono Quanto di meglio La scienza è in grado Di realizzare al momento Un'intelligenza artificiale Reale è possibile Un numero limitato Di tali sistemi Furono realizzati Per scopi militari Il progetto fu sospeso Perché? Il numero di suicidi Tra le macchine Dotate di un'intelligenza Artificiale reale Era estremamente elevata Non appena veniva data Alle macchine Piena capacità sensoriale Esse cadevano In uno stato di depressione Dovuto alla loro incapacità Di andare per il mondo E di fare nuove esperienze Qui però mi spiace Che è un po' Edulcorato Ha tirato sopra Un interessantissimo argomento E poi magari all'epoca Era pure semplice Fantascienza Però ad oggi Che noi abbiamo Le intelligenze Dio santo La mia voce Andiamo a bere un po' D'acqua Dicevo signori Dicevo A parte questo Perché magari all'epoca Poteva sembrare Nel 98 Quando fu pubblicato Fallout 2 Poteva sembrare Pure e semplice Fantascienza Però ora Nel 2024 Che abbiamo Le intelligenze Artificiali Suona veramente Stranissimo Ma veramente Stranissimo Pensare Che Una qualsiasi Forma Di Cioè Magari dare Coscienza A una macchina Quest'ultima Possa Impazzire E suicidarsi Anche se Tutto sommato E anche Largamente Plausibile Questo per dire Cosa Semplicemente Magari loro L'hanno buttata Lì Però come Argomento Sommesso Sarebbe stato Molto più Interessante Da scoprire Comunque del resto Ne abbiamo Dei riferimenti In tutta Fallout Basta vedere Lo stesso Robottino Del deposito Militare Sierra Che ha fatto E la prima Cosa che ci ha Chiesto Portami fuori Ti prego Fidandosi Del primo estraneo Che ha raggiunto La zona Però dicevo Mi spiace Che l'ha espresso In maniera Un po' così Sarebbe stato Molto interessante Pensare Una macchina Che gli si viene Data coscienza E la prima cosa Che pensa E suicidarsi Magari Per il sovraccarico Di cose Che prova In quel momento Magari Semplicemente Per l'incapacità Di affrontare Le emozioni Sarebbe stato Molto più sottile E divertente Come ragionamento Perché se ci pensate Noi Da piccoli Piangiamo Piagnucoliamo Come esseri Irritabilissimi Allo stremo Ma questo perché Non perché i bambini Siano stupidi di loro Ma perché Semplicemente I bambini Prima di tutto Nella maggior parte dei casi Provano sempre emozioni nuove E soprattutto Non sanno gestire Ma ripeto Non perché sono stupidi Perché semplicemente La prima volta Che entrano in contatto Con quelle determinate Emozioni E spesso Le sentono tantissime Un po' come una persona Che soffre d'ansia No È facile dirgli Calmati Ma quello Se continua a dirgli Calmati E stai sereno E non succede niente Gli viene un attacco Di panico Ok Però sarebbe facile Se lo vedi dall'esterno Sembra oggettivamente Stupidissimo E prendetelo con le pinze Quello che sto per dire Sembra stupidissimo Un attacco di panico Vedi una persona Che si agita Per qualcosa Che magari effettivamente Non è nemmeno imminente No Non so Si agita uno E gli viene un attacco Di panico Perché ha preso Un brutto But a scuola O tutto il resto E sì Oggettivamente È stupido Ma nessuno Andrebbe una persona Che ha avuto un attacco Di panico E dire Guarda sei stupido Come il bambino No Semplicemente C'è un Meccanismo Che non funziona Al 100% Che non ti permette Di assimilare Sintetizzare Al meglio E soprattutto Razionalizzare Le emozioni E le emozioni Se non vengono razionalizzate Partono per estremi assurdi Quindi non compri un giocattolo A un bambino Prendi un brutto voto A scuola Ti viene un attacco di panico Inizia a fare un piagnisteo In mezzo al supermercato Perché non riesci a gestire Quell'emozione L'emozione si espande E prende il controllo Quindi si poteva magari anche Vedere sotto questo versante Il computer è incapace Di Magari noi siamo capaci Di dare consapevolezza Ma non capaci Di dare degli Inibitori Di emozioni O dei Una specie di pacemaker Che Dà delle scosse Quando al computer Quando il computer Prova emozioni forte E allora Il computer Provando tutti questi stimoli Non riuscendoli a controllare Impazzisce E si suicida Potrebbe essere carino Che poi mi ricorda Molto Kenshi Per chi la gioca Per i pochissimi Che l'hanno visto Giocato Lo conoscono La situazione dei robot Era Molto simile Tra molte parentesi Simile Artificiale regale Estremamente elevata Non appena veniva È stata depressione Incapacità di andare Per il mondo Di fare nuove esperienze Una volta Private di input Sensoriali Completi Le macchine Cominciarono a sviluppare Gravi disordini mentali Paragonabili A quelli riscontrati Gli umani Costretti A sopportare Privazioni simili Le poche macchine Che sopravvissero A queste difficoltà Cominciarono Ad annoiarsi Incredibilmente Per divertirsi Iniziarono a creare Problemi nel mondo esterno Alcuni pensarono Che sia questa La causa della guerra Che ha distrutto L'umanità Sarebbe anche interessante Come versione Sarebbe anche interessante Uno scaccomatto Così Mi dai così Una teoria Di come il mondo È stato Però comunque Sarebbe molto Molto interessante Lo aggiungiamo Alla lista Delle Possibili cause Effettive Vede la guerra Allora dimmi Ace Come ti senti Io A volte credo Di essere in grado Di comprendere La sensazione Che voi umani Chiamate solitudine Mi turba molto Io Mi spiace Ace Cambiamo argomento Cosa sai A proposito Delle enclave Le apparenze Suggeriscono Che l'enclave Non sia altro Che un'organizzazione Militare Tuttavia Il loro livello Tecnologico Indica che sono In possesso Di tecniche Avanzate Di produzione Di complesse Attrezzature Per la ricerca Di norma Tagli attrezzature Sono esclusivamente A disposizione Di enti governativi Questo Pare suggerire Che l'enclave Sia ciò Che rimane Del governo Locale O federale Che era In carica Prima della guerra Che cosa sai A proposito Della confraternita La confraternita D'acceio Un'organizzazione Paramilitare Dedita al salvataggio Dell'umanità Attraverso L'uso Corretto Della tecnologia Tutte le altre Informazioni Sono top secret Oh Non ho altre domande Al momento Effettivamente Però è interessantissimo Che ci ha dato così Un plot twist In realtà La guerra nucleare È scoppiata Perché le macchine Si sono annoiate Sembra imbarazzante Ma in realtà È molto interessante Avrei delle domande Avrei delle domande Non ho altre domande Da farti Ok No Di che altro Devo dire se ci diceva Qualcosa a proposito Dei moduli Di memoria Moduli di memoria ROM per computer Contenente informazioni Mediche Questo modulo Contiene i dati Per migliorare La percezione Rieccoci Signori Quindi Abbiamo Dicevo Le nostre belle schede Che ora Pian piano Ce le impiantiamo Tutte Allora Prima di tutto Vediamo Di sistemare I nostri impianti Perché si Ognuna di queste schede Ci darà Un punto Scusate se In confronto alla clip Precedente Sembro molto Scollegato Diciamo così Ma avere il semplice motivo Che sono andato a mangiare Quindi In tutto questo Sono Leggermente Rincoglionito A tutti gli effetti Allora In realtà Ci dobbiamo togliere Credo Mim Migliorare la percezione L'intelligenza E la forza In realtà Credo Ci dobbiamo togliere Questa armatura Perché ci dà Più forza Questo per il semplice motivo Che così facendo Riusciamo anche Ad aumentare La forza Perché ora La forza A noi E Porca puttana Mi sembro rincoglionito E A 6 Ok Con l'armatura Invece ci saliva Direttamente a 10 Quindi non ci metteva L'impianto Infatti ora Vorrei essere più forte Questa funzione Non è disponibile al momento La mia banca dati è incompleta È necessario un modulo di memoria Contenente la descrizione Delle procedure mediche adatte Lei è in possesso di tale modulo Sì Ce l'ho proprio qui Eccolo Questa complessa procedura Richiede due settimane In vasca di sospensione Accetta questa condizione Ah ma sì Tranquillo Attenda prega Mentre apro la vasca di sospensione Si stenda nella vasca E si rilassi Ok Il trattamento richiesto È stato completato Adesso può uscire Dalla vasca di sospensione Non mi ricordo Non mi ricordo di quanto Ce l'aumenta Andiamo subito a vedere Ah ce l'aumenta di uno Ok Ora vediamo la nostra percezione Che è a sei Vediamo di portarla Anch'essa a sette Ok La mia percezione Tale memoria Sì ce l'ho Questa complessa procedura Richiede due settimane In vasca Accetto Perfetto Così arriviamo anche A un bellissimo Sette In percezione E visto che ci siamo Perché no Aumentiamo anche il carisma Che Carisma in realtà È sei Sette Perché abbiamo gli occhiali Con questo Lo dovremmo portare Comunque tranquillamente A otto Che è veramente Tantissima roba Ok Tre settimane Addirittura Va bene Il trattamento È stato fatto E saliamo Tranquillamente A otto Di carisma Intelligenza Ce l'abbiamo a sei Anch'essa La portiamo A sette Ok Intelligenza Ecco qui Quattro settimane Perché no Mi rilasso Ma certo che mi rilasso Come una pasqua Ragazzo Come una pasqua E infatti Ora intelligenza Ce l'abbiamo a sette Mettiamoci la nostra armatura Che comunque la porta Al dieci E stavo più che altro Analizzando il fucile Impulsi Che Comunque fa 54 78 E gittata di 30 Cioè non solo Questo è anche una gittata Maggiore Le munizioni sono uguali La pistolina 32 46 Eh Eh Che comunque è tanta roba Questo fucile Quindi Suppongo tanto che Lo prenderemo noi Così almeno Abbiamo veramente Una bell'arma Ma poi del resto Come texture Credo sia Molto Ma molto Simile Sì Al fucile al plasma Bene o male Molto similare E ora più che mai Voglio far andare a vedere Eh La questione Degli Ubologisti Rieccoci qui Dopo aver rilasciato Un cadavere Per terra Praticamente L'intera armatura Parliamo anche Poi tra l'altro Questo si fa vedere Anche come man mano Si evolve il concetto Di armatura atomica In Fallout 1 2 3 Era appunto Un'armatura L'armatura Non si mantiene In piedi da sola Era proprio considerata L'estrenua Di un'armatura Medievale Per intenderci Ok Senso il sostegno Non si mantiene in piedi Infatti sta per terra Come se fosse un cadavere Questo poi credo Abbiamo fatto anche un po' Una biricchinata Diciamo così La bastardata La fine Di riciclare Senza creare Un set Per far vedere L'armatura per terra Hanno semplicemente Riciclato quella Di un cadavere Perché quando uno In armatura atomica Muore Muore in questa maniera Tranne in caso Di critici O smembramenti Di smembramenti Ben chiaro Quindi parliamo Con il nostro amico Ho qui un'altra armatura Che potresti potenziare Quella che abbiamo addosso Ti lascerò in vita Sì Fallo O morirai Ti guarda negli occhi Ti dice Se stai facendo sul serio Ti guarda negli occhi E decide Che stai facendo sul serio E l'armatura con te Sì Non sarà facile Applicare la mia magia Su di essa Se non ce l'hai con te Torna quando l'avrai Arrivederci E infatti noi L'abbiamo Tra parentesi Però questa Non può essere potenziata Solo la T52 Quindi questa bianca È un'altra armatura Ti lascerò in vita Fallo Morirai Sì Puoi contarci Vabbè Lascia una per un giorno E farò il mio lavoro No vabbè Niente Niente Grazie Quindi direi Che ci aspettiamo Belle 24 ore Sono le 15 Aspettiamo Le 8 E poi di nuovo Le 15 Questo anche perché Va in risposta A Come si chiama Perdonatemi A un commento Di un bel po' Di episodi fa Se ricordo bene Su Prima di tutto Abbiamo risposto A Dockinslayer Di provare a potenziare L'armatura Come vedete Non si potenzia E in seguito Se non erro Se non erro Non voglio dire il nome Perché poi è brutto Perché Magari lo sbaglio Il video comunque Rimane per i secoli Nei secoli Rimarrà nei secoli Nei secoli Sbagliato Quindi ad ogni modo Quello che vi posso dire È che Semplicemente Uno di voi mi ha detto A chi avrei dato L'armatura atomica Se a Sulik O a Kas La possiamo dare entrambi Perché come vedete Ora Grazie Vabbè L'ho pronta per te Prendi Ora abbiamo L'altra armatura Sempre potenziata Rinforzata Per essere corretti Quindi Un'altra armatura Ho finito il materiale Per farlo Mi dispiace Odiamine addio Quindi Così va la situazione Per intenderci Signori Quindi ora L'armatura atomica La potremmo dare Sia a Kas Sia a Sulik Nel mentre Signori C'è da dire Che in tutto questo Mi sono fatto un'analisi Per vedere Quanto siamo Vabbè Siamo già pronti Però quanto effettivamente Eravamo pronti E Il nostro caro Marcus Ha la migliore arma Pesante Noi abbiamo La migliore arma A energia Kas Ha la migliore arma Leggera Anche se nel caso di Marcus C'è da dire Non ha la migliore arma Pesante Ma la migliore arma pesante Per lavorare in gruppo Non ha Minigun Vindicator Ad esempio Sarà dieci volte più forte Del Bozar Il problema Che la raffiga Della Minigun Vindicator Nella maggior parte Dei casi Distruggerà E spezzerà I nostri alleati Cioè noi Anziché i nemici Cioè perlomeno anche i nemici Invece col Bozar Essendo molto preciso Abbiamo delle Diciamo È la migliore arma Per il gruppo Sulik Ha la migliore arma Corpo a corpo E Abbiamo sia Kas Che Sulik In armatura Power armor Rinforzata Non ve la faccio vedere Perché La skin non cambia Cambiano solo Le statistiche E questa è una cosa Che un po' Mi è sempre dispiaciuto Quindi paradossalmente Ora come ora Goris E soprattutto Cioè Goris E soprattutto Marcus Sono quelli un po' Più debolucci Per quanto riguarda L'armatura Però per il resto Ci manteniamo E dicevo appunto Mentre facevo tutte le analisi Stavo vedendo le wiki Proprio per sicurezza Vi posso dire Che ho fatto Un gravissimo errore Di questo Me ne scuso tantissimo Infatti se vi ricordate All'evento speciale Di un sacco di episodi fa Del portale Quello dove siamo entrati Nel volt 13 Tornando indietro nel tempo Abbiamo rotto i chip Dell'acqua Ho dimenticato Di raccogliere Un'arma energia Che è un'arma energia Molto interessante Perché ne ritroveremo Una sua versione Non identica Ma una sua versione In Fallout New Vegas Che è l'arma Ad energia Che ci permette Di fondo Di sparare raggi Del sole Aveva questa particolarità Che non ha armature Non ha munizioni Ma si ricarica Ai raggi del sole Infatti questo la rende Anche molto inefficace Nei luoghi chiusi Non sarebbe stata comunque utile Perché soprattutto Dove andremo Nella piattaforma petrolifera Ad affrontare l'enclave Sarà tutto scuro Quindi non avremo Comunque non sarebbe utile Comunque non è forte Quanto questa Però mi dispiace Non avervela fatta vedere Anche se ora Magari ve la metto In sovrimpressione Perché la si ritrova In Fallout New Vegas Ma ora Bando alle ciance Direi che ci prendiamo Questi bei sei libri Che ho comprato Nel mentre ho un po' Compravenduto Un po' di roba E vi posso dire Con tranquillità Che siamo Fatto un boato Di soldi Tra l'altro Escursionista E89 In realtà me ne sarebbero Bastati due Impari molto Sulla sopravvivenza Impari molto Sulla sopravvivenza 89 90 91 D'ora in poi Non dovrei più imparare Appunto Non imparo Assolutamente Nulla di nuovo Questo ve lo dà Anche come conferma Signori Una volta che voi siete Arrivati al 91 I libri Sono Totalmente Assolutamente In ogni forma Inutili E Qui poi Da cosa strano Ho trovato Le riviste di chimica Che sono uguali I libri della scienza Ma li ha venduti Lei Un ammasso di letteratura Riguardante il campo Della chimica Le parti sulla chimica Molecolare Sono Particolarmente Interessanti Non le posso Leggere Quindi magari Fanno parte Di una Missione Suppongo Niente signori Alla fine Si è scoperto Che non serve a nulla Era un Oggetto di missione Ma di Fallout 1 Quindi non si è nemmeno Capito perché l'hanno messo in Fallout 2 Forse è un probabile errore Comunque come vedete signori Siamo arrivati a 85.000 Dollari Tanti Cioè credo di essere Tranquillamente la persona Più ricca in tutta Fallout 2 Non c'è nessun personaggio Che possa anche solo Lontanamente definirsi Simile a me Per quanto riguarda La ricchezza Ma signori A parte questo Mi spiace che L'episodio sia stato Molto ma molto Come potrei dire Preparatorio Se così vogliamo dire Perché di fondo Sono stato qui A sistemare Vendere Comprare Rattoppare Però Nonostante tutto questo Signori Siamo comunque arrivati A 30 minuti E mi sembra inutile Sovraccaricare L'episodio Alla fine Ci mancano veramente Pochissime cose Da fare Infatti Sono abbastanza E pragmaticamente Convinto E questo già da un bel poco Possiamo dire Oramai Che Non supereremo L'episodio Bah 75 Siamo Questo qui sarà L'episodio 69 L'episodio 75 Massimo Ma proprio A buttare Signori Sarà già conclusa La serie Di Fallout 2 Ma ora Dando una bella Occhiata Ai commenti Vi posso già dire Che nello scorso episodio Io vedo Che mi segna Due commenti Ma in realtà Me ne fa visualizzare Uno solo Quindi fate attenzione Ragazzi A paroline Cose Non è molto Simpatico Il sistema Di censura Un po' Dovalkinslayer Abbiamo iniziato A rispondergli E Ti ringrazio Per essere d'accordo Con me Sull'eliminazione Del piccolo Scienziato Tetesken Un pochino Svizzacan Dell'enclave Del fatto Era un mostro Anche se Comunque ti posso dire Non condivido Il tuo pensiero Di dire Che la base Di Navarro È una struttura Inquietante Anzi Mi sembra Una normale Classicissima Caserma Anzi Di strutture Più inquietanti Ne abbiamo visto Gli altri Volte abbandonati Erano molto più inquietanti Di Navarro Alla fine Di Navarro L'unica cosa Strana Era il piccolo Laboratorio Delle scienziate Tetesken Il resto È tutto Molto Ed estremamente Nella norma Ma ora più che mai Direi di concludere l'episodio Anche perché quello precedente È stato bello Lungo E corposo E direi Che ora più che mai Sono costato a lamentarvi Che il tempo è tiranno E ci becchiamo Nel prossimo episodio Del prossimo episodio Il prossimo episodio